Allora, il nostro obiettivo è, dal momento che vengo a portare il fatto dei paesi partner, della zezia, dobbiamo fare in modo che attraverso un ruolo, loro imparino qualcosa sulla scuola della mosca. Allora, allora, allora. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti